e buongiorno raga sono federico time ed eccoci tornati in un nuovo video questa volta sempre su tube simulator andremo a giocare perché facciamo solo questo noi giochiamo e poi mandiamo avanti la serie la mia prima serie sarebbe quindi penso che è importante questi episodi e penso continuerò a portarli perché come se guarda chi sono un pochino espanso dall'ultima volta leggermente solo perché mi sono impallato siamo allora ecco qui la nostra il nostro livello poi guardate qui bello allora l'ultima volta allora ha sbloccato qui è la zona gaming come conoscerete allora ho messo ho preso questo tavolino questo qui in penso che mi sembra nintendo 64 stange in gamecube la playstation 4 abbiamo preso ruba guarda che il tappeto a tour la loro questo grandissimo standard molto bello però non capisco cosa rappresenti qui guardate abbiamo preso una polaroid delle telecamere più o meno ce l'abbiamo tutti questo ci abbiamo le chitarre perché a me piace suonare un violinista ma ecco che guardate da un'altra chitarra una fender qui ci abbiamo la nostra più o meno zona relax dall'ultima volta tutti i soldi di qui più o meno la zona musica perché come potete vedere ciò i dubbi due tamburi bonghi non mi ricordo come si chiamano adesso poi qui abbiamo preso questo bellissima fotocamera che ogni tanto riprende dei pokemon si riprende i pokemon allora non mi ero sbagliato a un telefono è un telefono con il gambo praticamente lo lasciamo qui perché tanto non ci dobbiamo fare niente come dire come come sfondo posteriore abbiamo ho preso questo qui blu che scende come potete vedere questo scende eccolo e scalante come quello verde che avevamo prima su questo è più è meglio veramente allora ho sboccato i due video quindi adesso ne andremo a fare altri guardate quante visualizzazioni stiamo facendo giriamo allora giriamo giriamo top top 10 vegans per chi mangia zucchine ecco qui per chi mangia zucchine va bene poi allora andiamo qui e facciamo questo qui uno scoop 360 uno scoop mi gusta qui possiamo possiamo dire che basta adesso ritorniamo indietro anche non mi interessa potenziamento 100 196 cervelli adesso non so cosa potenzia perché non mi interessa tutti questi visualizzati qui ho proprio fatto tutto praticamente facciamo la pubblicità non so cosa serve però la pubblicità durano minuti in più vuole pensare questo aggiornamento non so che serve il suo massimo quindi facciamo gaming potenziamo che allora adesso mandiamo avanti gaming così tutti calmi dai possiamo andare avanti ecco fatto gaming poi andiamo su esperto poi porta avanti esperto mi piace il gaming penso che ogni episodio mandiamo avanti qualcosa adesso ne mandiamo avanti anche 34 adesso vediamo faccio tutta la tabellata faccio subscribe arriviamo all'ultimo e faccio questo sì sì facciamo un episodio facciamo dai ne facciamo un episodio dai così faremo così un episodio prossima volta fa ne famo un altro e per ultimo quello di lì che ho già cominciato questo qui delle dell'erba tutto piante esperto vedete questo per ultimo quindi ci abbiamo ancora un po da fare 12 ci abbiamo per la fare per una due tre quattro sei quattro settimane nell'episodio ci abbiamo da ancora quindi sarebbero o nove o più non ancora ci abbiamo da fare nove episodi oltre a questo è questo mi sembra è il quinto episodio quindi arriviamo tranquillamente al quattordicesimo episodio poi preso la sedia questa di qui guarda quanto è bella la mia preferita più o meno andiamo qui con i titi con gli amici andiamo a vedere il nostro amico de dedo che non si deve vedere come messo a 12 ave ringrazio tra parentesi mi sono sempre dimentico sì va bene sorvoliamo le idee di commenta mi sta vedendo questo video bellissima questa stanza mi piace piace molto guarda fatta molto bene comunque qui col gamecube guardate rip ah è vero il gatto con il gatto con rip riposa e non significa riposa in pace spero che solo riposa è quello che ho capito qui montagne di soldi bello però bella postazione con questo questa luce i dischi è vero compriamo i dischi dopo e alla telecamera bellissima lassù col joystick che anche questa è una genialata mette il gesto in questo anche secondo me ha fatto bene molto bene o com'è a pensare mcdm vediamo mcdm poi slash dnr quello dell'altra volta sempre loro guardiamo e qui possiamo avere un mcdm molto no è vero mi sono dimenticato questa la chitarra rossa è fino questo questo è un tocco dei classi cagnolino bello ce l'abbiamo anche noi cani quindi niente quindi non è brutto e basta e io vi dicevo questo ne avevo prima questo lo sfondo questo verde qui quello che ci manca slash dnr poi indietro grande genere ecco veloce io non capisco che secondo te sarà devono migliorare la cosa ma non veloce abbiamo anche fede d'anevero mamma mia ste volvi però è ora fatto bene la montagnetta dei soldi poi voglio mostrare un bug coi soldi questi qui e le monete queste di cui il bug sembra tutto strano non cambia posizione cambia posizione ma diventa molto qui e c'è tutto l'ammasso di come si chiama di videocamere la moda di mette la console così come come faccio come ho fatto io la vedo che la indugo a molti a molti che andiamo a vedere fedi lana poi faccio vedere questo bug anche lui e la chitarra rossa siamo gli unici stupidi che non dobbiamo una chitarra rossa ragazzi non va bene attenzione lui ha un letto un letto molto sconcio quindi vedete anche qui c'è la stessa cosa che dicevo io questa è la sua zona blog molto bella il microfono sì mi piace questo è molto bello la stanza e manca mancano poche per manca poco comunque allora poi che ci manca penso sì basta basta abbiamo finito agli amici nostri e adesso vi faccio vedere aspettate metto un po sul video vi faccio vedere ragazzi voi i soldi li trovate così come potete vedere se io adesso vado a cliccare la seconda opzione blu con le freccette giro e la terza volta vedete si alzano i soldi io sembrano tipo diventa più non lo so se voi lo sapevate questo bug guardate come io ce l'ho fatti tanto prossimo episodio abbiamo anche questo cinque visite ok io perchè ho sbloccato infatti anche la missione giornaliera qui che è qui tieni ok vabbè di qui tutte le sezioni abbiamo 8 milioni di visualizzazioni e 600 mila iscritti guardate la tv bellissimo lo slender non l'avevo visto lo slender addirittura ecco qui abbiamo i cagnolini guardate tutte e due tutti i pagols non mi ricordo come si chiamano ho preso questo anche questo microfono guardate quel bello qui abbiamo ma che aspettate che fa ho allungato la lingua la mosca ecco perché si allungava la lingua allora ecco perché ai video li stiamo mettendo a fare vabbè tanto non penso che facciamo in tempo a vederli quindi allora oggi volevo comprare si prendiamo quello prendevo ma che non prendiamo perché siamo matti non prenderlo questo tanto lo metto su a no prima prima di tutto ci prendiamo la chitarra la chitarra quindi una chitarra rossa mi interessa troppo eccola ecco ti abbiamo trovato volevi sfuggirci sono un gran appassionato di musica come di tutti questi strumenti mi piacciono la chitarra e il giradischi questi di qui si questi ce li prendiamo tutti e poi questi di qui lo mettiamo qua su i dischi li portiamo su ma indietro il kit chiamato andiamo qui prendiamo i dischi li portiamo su ecco fatto perfetti qui sono qui tutti i poster contrabranchi uno lo stanzino ho preso un'aquila al volo 291 tante lo stanzino da registrazione proprio oltre che di qualche poi non c'è niente stanzino eccoli i pagoli i nostri pagoli facciamo ci facciamo una giocata fagol volevo facci una giocata fagol si darei anche potenziato quindi c'era sempre dei premi molto ambiti per dire voglio i soldi voglio i soldi voglio i soldi no quindi ok un'ora abbiamo scalato un'ora davvero quindi adesso facciamo qui si era entrato e poi è uscito non ho capito e non ci interessa quindi allora penso allora quindi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto i dischi l'abbiamo comprati la chitarra l'abbiamo comprata la zona relax è sempre qui a ditemi nei commenti se sarebbe se sta meglio un altro pontroncino anche qui penso però lì sia faccio facciamo una cosa già ce la metto io almeno non ci sbagliamo poi dopo questo concluivo con un cloro il video perché sennò dopo diventa lungo andiamo alle poltrone 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 eccola si mettiamo così allora le tre cose che per oggi abbiamo finita e quindi 12 minuti e 40 il video dovrebbe venire quasi 13 minuti e allora detto questo no dovrebbe manco 12 50 detto questo nome sa più 12 50 no più 13 minuti ha detto questo io penso che il video si possa concludere qui del vostro federico time è tutto arrivederci ragazzi al prossimo episodio